VPC LOL, salam alaikum, salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di PES 2018, sono sempre io, Walter Alcazzi, il fondatore di VPC LOL, ultima volta abbiamo sfidato l'Everton nella prima partita della storia di Europa League, vincendo 4-0, facendo un'ottima partita, rischiando poco, e oggi sfidiamo l'Inter in casa, e deputiamo la prima partita in Serie A, l'Inter che abbiamo già sfidato nella scorsa stagione, ai tempi di la Coppa Italia, e non l'abbiamo sfigurato. Va bene, vediamo che, diamogli uno schema di gioco, poi siamo messi, eh, facciamo così, Vigliante non è nella migliore forma, lui è, cos'è, difensore centrale, schieriamo Puccino, da un'altra parte, vediamo, vabbè, di Codemo, lo schieriamo al posto di Vittori, che si recupererà in panchina, dell'Espetro, che non è nella migliore condizione, vediamo un po', vabbè, immobilianti quello nella peggiore, potremmo schierare Lasagna, e giocherà comunque come, al posto di Alcarsana, aspettate un attimo, che voglio vedere un po', vabbè, vediamo. Ok, facciamo così, mettiamo Caligiuri, poi mettiamo Vittorio qua, Granito sarà l'attaccante, di almeno, che ci saranno sia Motta, che Alcarsana. Ok, iniziamo, mi pare che sia la di gioia in questa partita, poi non lo so, perché io... e andiamo a sfidare l'Inter, di nuovo, questa volta però in campionati Serie A. Comunque fa veramente un caldo, eh, non mi si è rispettato questo clima. Siamo a inizio giugno, e sta facendo un clima di inizio luglio, praticamente, vabbè, dopo una primavera fredda, era prima la mia estate calda. Ah, no, dito notte pure sta partita, vabbè. Eccoci qua a VPC LOL contro Inter. Il VPC LOL completo Nero Fucsia. Inter incompleto bianco. Si inizia. Stocca il primo pallone, il VPC LOL. Nico Demo. Palla per San Vito. Palla per Norese. Norese la dà per Lasagna, che tocca il primo pallone. Lasagna però ha un corrido per Spetro. Funziona. Però perde il pallone. E allora l'Inter riparte da Padelli. Parabè Skriniar. Attenzione però, provo un errore. Attenzione, al Plasma gli tocca la palla, attenzione. Al Plasma vede un buco libero. E la sbaglia. Che errore dell'Inter. Inter. Sì, praticamente un errore difensivo dell'Inter. Dove Al Plasma non è approfittato. Badelli non ha boccato la finta. E la palla esce di un niente. Disperazione per Al Plasma. Allora, prova l'Inter. Attenzione, Der. Palla per Lallana. Canceloma. Anticipato dalla... Palla per Lasagna. Pallone respinto. Attenzione, Zahara. Vici e ripalla. Zahara. Palla per Spettro. Attenzione. Spettro la dà indietro. Grosso di Lasagna. Zahara di testa e la palla esce di un niente. Però anche buona partenza del VPC LOL. Dove in casa cercherà di non perdere partite, almeno. No, anzi, una rovesciata che non è servita molto. Però si riparte da Padelli. Rimessa per l'Inter. Il VPC LOL che rappresenta una... È una squadra, diciamo, di una regione autonoma che si trova al sud Italia. Attenzione. San Vito chiude bene. Palla per Nicodemo. Nicodemo, Lasagna. Sagna Spettro. Però sbaglia il retropassaggio. Allora riparte. Ora l'Inter prova una serie di passaggi. Attenzione, vediamo... Palla per Bonice Valero, ma viene anticipato. Ibrahim. Lasagna. Palla per Daniel Spettro, ma non passa il pallone. Anticipo la difesa dell'Inter. Attenzione. Però... Chiude bene. La retroguardia Nerofuxia. Ora lì ti si inizia a far vedere. Ma ci sono tanti errori. Zahara, attenzione, Daniel Spettro. Prova ad andare. Si libera. Attenzione. Daniel Spettro. Palla per Zahara. Zahara si libera. E non viene contratto. Allora... Si rifugia in rimessa laterale. VPC LOL. Ora si rifà rivedere. Palla per Zahara. Zahara per Nicodemo. Attenzione. Danni a Spettro. Palla per Fiamozzi. Alplasma. Prova a fare un dribbling. Cross di Alplasma. Viene DVA. C'è calcio d'angolo. Palla per Zahara. Attenzione. Palla per Nicodemo. Di testa. La palla esce di un niente. Grande colpo di testa. VPC LOL è forte nelle palle inattive. Il pallone... Colpito bene, ma... Colpisce il pallo di sostegno... Fuori dalla porta. Il VPC LOL che comunque continua a... Spingere. E aspetta. Nicodemo. Palla per Alplasma. 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 Parte il tiro da fuori. Fuori di un niente. Quello è il tiro dalla distanza del giocatore iracheno. Andy Alplasma. Il giocatore iracheno... Che ha comunque... Origini italiane. Ibrahim. Palla per Alplasma. Palla per Alplasma. Andy. Alplasma. 1-0. 1-0. Al 25es minuto il VPC LOL la sblocca. Gol di Andy Alplasma. Non so se è il primo gol stagionale. Grande azione del VPC LOL. Perfetta. Bello. 1-2. E lì non può sbagliare. E il VPC LOL la mette dentro. Bel sinistro. All'angolino. Imprendibile. Ed è 1-0. Il VPC LOL in vantaggio. Che palle. Ok. Inter che deve fare qualcosa in più. Perché il VPC LOL sta giocando una buona partita. e non ha intenzione di lasciare vincere. Attenzione. Ora il VPC LOL sta sulla difensiva. L'Inter deve provare a reggere. Attenzione. Vale per Persic. E allora il VPC LOL allontana la minaccia. Allora. Palla per la Sagna. Ma la palla è imprendibile. Però sbaglia anche. Nico Demo. Palla in profondità. Attenzione. Lasagna. C'è un buco. Lasagna. Però si ricompatta la difesa. Attenzione. Dalle spettro che non prende il pallone. Allora insiste. Attenzione. Zahara. Palla per Alplasma. Tiro deviato. Ci sarà calcio d'angolo. Ma il VPC LOL gioca bene. Partita comunque con tanti errori a centrocampo. Molto tattica. Quindi calcio d'angolo. Sempre Zahara. Vale per Zahara. Attenzione. Dì al Plasma di testa. Ma la palla è lontana. E la palla non è proprio... Si. Non ha colpito bene. Ma era parecchio lontano. Da quella posizione nerf. Facce colpire. Allora. Si riparte dalla remessa al fondo. 34 minuti. VPC LOL All'uno. Inter 0. Gol di Alplasma al venticiquesimo minuto. Ora l'Inter. Prova a farsi vedere. Attenzione. Ora l'Inter prova a vedere. Palla per vedere. Attenzione. È un po' scoperta. Cucino. Attenzione. Però... Non ha notato bene. Però insiste. Però Norese chiude bene. E allora riparte il VPC LOL. Attenzione Norese. E allora si tiene troppo la palla. E allora l'Inter perde. Nicodemo. Palla per Spettro. Palla per Alplasma. Attenzione al Plasma. L'Astav Plasma. Cross per Fiamozzi. Lasagna viene... E allora il suo tiro viene ribattuto. Norese. Ibrahim. Daniel Spettro. Non vince il contrasto. L'Inter si difende. E riparte. Attenzione. Palla per Eder. Ora è un po' scoperto il VPC LOL. Palla per... Di nuovo per Eder. Attenzione. Ancora per Perisic. C'è un'occasione per l'Inter. Appuccino. Chiude bene. Attenzione però. Nidri insiste. Palla per Cone. E sbaglia. Incredibilmente a porta sguarnita. Grande occasione per l'Inter. Non ho sfruttato bene. Ma a pochi minuti dal fine vero tempo. Sì. Qua era completamente libero. Ed Eder la sbaglia. Allora. Si riparte. Non ci sarà avuto un minuto di recupero. Quindi ci sarà poco o nulla. E finisce qui. Una zero per il VPC LOL in questi primi 45 minuti. Un VPC LOL molto attento. Che ha rischiato poco. Inter che comunque deve fare qualcosa in più. Per spaventare questi qua. E niente. Che dire. Vediamo. Se possiamo fare qualcosa. Facciamo così. Schieriamo. Al carsano lo mettiamo al posto di lasagna. Poi mettiamo Niccolò Motta. Che può prendere il posto di sheriff. E mettiamo... No. Caliguri al posto di Zahara. Triplo cambio. Niente. Perfetto. Almeno cambiamo un po'. Ok. Si riparte per il secondo tempo. VPC LOL avanti di 1 a 0. Ok. Nicodemo anticipa. Palla per Alplasma. Perde il pallone. Attenzione. Ancora Nicodemo. Pallone per Motta che tocca il primo pallone. Ma viene anticipato. Inter allora che ci vuole provare. Attenzione Nicodemo. Pallone per... Alplasma. Ma il pallone è impreciso. Allora. Allora l'inter ora per provare il pallone. Candreva. Attenzione Candreva. Palla per colpo di testa. Ma Eder non la colpisce bene. Scusa chi è che c'è? Che non ho capito. Aspettate un attimo. Scusa perché Alcarsana è portiere? Non l'ho capita sta cosa. Oh cavolo. Abbiamo fatto degli errori. Come c'è finito? Mi sa che ho fatto qualche errore. Facciamo che si schieriamo Motta. Vabbè. Si ho fatto un errore del cazzo purtroppo. Vabbè. Perché mi sembra strano che lui gioca... Si è che sicuramente per errore. Vabbè. Tanto. Facciamoli giocare pure in tanti ruoli. Comunque. Zahara. Palla per Daniel Spettro. Daniel Spettro lo dà per Alplasma. Attenzione al Plasma. Palla per Daniel Spettro. Non si dà nel Spettro. Palla per Motta ma... Viene anticipato. Ora l'Inter si fa vedere. Con Candreva. Viglianti. San Vito. Spettro. Ok. Facciamo così. Alplasma. Ancora Spettro. Vediamo per Alplasma. Attenzione. C'è un... Palla per Alplasma. Rosi Alplasma. Daniel Spettro di testa. Non ci arriva. E si difende. Attenzione. Palla per Nicodemo. Palla per Alplasma ancora. E la palla è fuori di un niente. Bella occasione. Io comunque scusate se ho fatto degli errori nella formazione. Sì però che palla è sti rallentamenti. Volevo di comprarmi un PC veramente nuovo perché non ne posso più. Questo PC. Attenzione. Alplasma. Spettro. Palla per Alplasma. Non ci arriva. Bah. Alplasma. Spettro. Alplasma. Alplasma. Rete. 2-0. VPC LOL. Sessantasesimo. Solo Alplasma la mette dentro. E' il raddoppio del VPC LOL. L'Inter comunque non riesce a reagire. SELOL che controlla bene. Gran tiro imparabile. E' il VPC LOL che indirizza questa partita verso la vittoria. E' il VPC LOL sta giocando veramente bene. C'è poco a dire. Ora è il 2-0 per i Nerofugsia. Che stanno mettendo in difficoltà una delle grandi d'Italia. Entra pure Icardi. Ora l'Inter prova a reagire. Ci sono pochi spazi. Palla per Nicodemo. Zahara. Ora prova un cuore 2-2 per Alplasma. Il pallone è impreciso. Allora riparte. L'Inter. Palla per Icardi. Attenzione Icardi. Borgia Valero. Palla per Persic. Attenzione Persic. Palla per Icardi. E c'è il gol del 2-1. L'Inter si riporta in partita con Icardi. Gran sensistito dell'Inter che comunque ci vuole provare fino alla fine. Sezione molto esistita dell'Inter. Bella azione. Qua non benissimo la difesa. Ed è il 2-1. Palla per Zahara. Palla per Zahara. Zahara la dà per Alplasma. Non passo però. Palla però di forza riesce a passare. Alplasma. Spettro. Palla per Alcarsana. Attenzione errore però non ne approfitta. Ora l'Inter si vuole. Sicuramente ora l'Inter ne ha di più. Il gol di Icardi ha un po' cambiato. C'è fallo di Norese intanto. Ora l'Inter sicuramente ha un atteggiamento diverso. Niccolò Motta che oggi ha come portiere. Per colpa di errore. Ma vabbè. Lui deve ad aprire al Plasma. Palla per Spettro. Che oggi si è visto poco. Sempre 2-1 per il VPC LOL. Ma ora l'Inter sembra averne di più. Cucino. Nicodemo. Spettro. Alcarsana. San Vito. Palla per Alplasma. Il Plasma per Spettro. Attenzione Spettro. Spettro. Palla per Nicodemo. Nicodemo. Non passa la palla. Attenzione però. Il VPC LOL che vuole probabilmente chiudere questa partita. Inter che finché non è chiuso ci vuole provare. Rimesso per l'Inter. Ultimi minuti per il VPC LOL che deve resistere e difendere questo vantaggio importante. Sarebbe comunque una vittoria importante. Per il suo campionato. Attenzione. Non è Spettro. Non è Spettro. Si prova ad aprire un VPC. Attenzione Spettro. Spettro. Viene però fermato all'ultimo. Allora riparte l'Inter. Siamo nel finale. Attenzione. Palla per Borgio Valero. Attenzione Borgio Valero. E sbaglia e non ci arriva. Attenzione. E finisce qui. Il VPC LOL vince la prima partita in casa. Contro un Inter che comunque nel suo tempo ha fatto vedere qualcosa in più. Ma il VPC LOL strappa una vittoria importante. pure per la questione salvezza. battendo comunque una squadra che sulla carta sembrava superiore. Ma è una squadra comunque questa qua. I Nerofucsia vincono una partita importante. E si proiettano in alto nella classifica. E si. Vediamo com'è andato a finire. Vabbè. Genoa Roma 1-1. Chievo ovvero Napoli 1-4. Spezia e Vento 0-1. VPC LOL Inter 2-1. 0-1 Bari Milan. Bologna Cagliari 0-1. Spallo Udinese 2-2. Torino Atalanta 0-0. Fiorentina Sandro 2-4. Sassolo. Zelazio 0-1. Vediamo la classifica. Beh. Il VPC LOL si trova al secondo posto della classifica di Serie A. Ha solo i due punti dal Milan. Che per ora è a punteggio pieno. Tuttavia. Tutte le altre hanno già fatto sconfitte. Il VPC LOL e il Milan sono le uniche che non hanno ancora perso. Il VPC LOL in questa vittoria supera l'Inter. E si prende la seconda piazza. Almeno temporaneamente. Il VPC LOL in questa squadra nazionale. Vabbè le solite cose. Ma questa è una parte che non farò. Sì poi vediamo. Ma farò. Contro vittoria. Prossimo andremo contro il Napoli. Sempre in casa. Vabbè raga. Termino questo episodio. Ci vediamo nel prossimo. Sempre sul canale. VPC LOL. Qui da Volta al Cazzo è tutto. Ci vediamo alla prossima. Come diciamo in arabo. Alaikum salam. Ti vediamo alla prossima. Per un paese. Per un paese. Anche. Puoi? In capi. Un paese. Per un paese. Puoi? 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 Grazie a tutti.